Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Games, io sono XanderGamer90, siamo sempre su MyClub PES 2016, dopo che negli scorsi episodi, nelle scorse settimane abbiamo visto le novità che sono state introdotte su MyClub in PES 2016, oggi voglio darvi qualche consiglio generale, qualche piccolo accorgimento per gestire la vostra squadra nel corso del tempo, nel corso dei mesi. Non è detto che la mia sia una strategia vincente, io non vi sto dando la chiave per avere successo su MyClub assolutamente, semplicemente vi dico il modo in cui affronto io questa modalità, nel modo in cui io mi trovo meglio a giocare a MyClub, sperando che questi piccoli consigli, questi piccoli e pochi consigli che vi darò, possano aiutarvi nel gestire il vostro club. Non è detto, ripeto, che questa sia una strategia vincente, anche perché so che ce ne sono altre, alcuni di questi consigli ve li avevo dati anche lo scorso anno, alcuni avevano fatto discutere, proprio perché ci sono vari tipi di approccio a MyClub. Ripeto, questa è la mia esperienza, poi ovviamente fatene tesoro come volete. Il primo consiglio che vi do, ed è quello che vi avevo dato anche lo scorso anno e che per certi versi aveva fatto discutere nei commenti, è di giocare, possibilmente tutti i giorni, di riuscire ad ottenere almeno una vittoria al giorno perché c'è il bonus giornaliero per la prima vittoria di giornata. Quindi, questo è l'accorgimento più generale, quello di cercare sempre di giocare, possibilmente ogni giorno, chiaramente se avete il tempo, e cercare sempre di vincere almeno una partita al giorno perché alla prima vittoria vi vengono dati se non sbaglio 2 o 3 mila, adesso non ricordo quant'è esattamente, GP di bonus giornaliero per la prima vittoria di giornata. Quindi è un bonus che fa parecchio comodo. Io l'anno scorso vi avevo dato un consiglio un po' estremo, che rinnovo anche quest'anno, che è quello di giocare poco ma ogni giorno. Nel senso, l'ideale per guadagnare di più, più velocemente, senza dover spendere poi i soldi per i contratti troppo spesso, sarebbe quello di giocare meno partite possibili, cioè ogni giorno di giocare finché non si arriva alla prima vittoria. Una volta che si arriva alla prima vittoria, si gioca domani. Mi rendo conto, ripeto, è un provvedimento un po' estremo questo, è un accorgimento un po' estremo, però è un ottimo metodo, soprattutto se avete poco tempo a disposizione nell'arco della giornata, è un ottimo metodo per accumulare tanti GP abbastanza velocemente, perché in questa maniera giocate poche partite ma accumulate relativamente tanti crediti, perché ne spendete pochi per il rinnovo dei contratti dato che giocate poche partite nell'arco ad esempio di una settimana. Soprattutto se siete abbastanza abili da riuscire a vincere la prima partita che giocare ogni giorno. Però giustamente questa teoria mia era stata un po' criticata, perché giustamente, ripeto, mi si è detto, eh ma non puoi mica, c'è che fai, compri un gioco e poi ti limiti a giocarci non più di due o tre partite al giorno. Mi rendo conto che è una roba assurda, ripeto, è un'ottima tecnica però per chi ha poco tempo al giorno, poche ore al giorno magari a spendere sui videogiochi, però al tempo stesso vuole curare quotidianamente il proprio club, qui sono i club. Quindi, ripeto, io ve la butto lì. Poi, ovviamente, siete liberi. Ci sono anche altri metodi, però secondo me questo è il migliore, almeno per quanto mi riguarda. Poi, un altro consiglio che voglio darvi riguarda l'allenatore, perché è una cosa magari un po' sottovalutata. Soprattutto magari penso per chi viene da FIFA, da Ultimate Team, in cui l'allenatore conta veramente zero su Ultimate Team. Ecco, in PES in realtà l'allenatore conta e conta anche molto, non solo perché l'allenatore è legato il modulo di gioco. Ma perché l'allenatore è quello che vi permette di schierare in campo un certo tipo di giocatori. Cioè, se l'allenatore è forte e ha dei costi totali molto alti, vi permette di schierare in campo tanti top player tutti insieme. Se un allenatore come quello che ho io adesso, che è quello di base, ha un costo totale massimo molto basso, come in questo caso 250, non potrò schierare troppi top player in campo. Quindi è importante molto più di quello che potrebbe sembrare avere un allenatore top, un allenatore veramente forte che abbia dei costi totali molto elevati oltre che un modulo giusto. Quindi il mio consiglio è di mantenere, non spendere assolutamente le monete MyClub che accumulate grazie ai bonus giornalieri. Ah ecco, piccola parentesi. Cercate di accedere, al di là del giocare, vincere o non vincere le partite. Cercate sempre di accedere ogni giorno a MyClub se potete perché c'è il bonus giornaliero che male non fa mai. Dicevo, spesso come bonus vengono date le monete MyClub che si accumulano anche compiendo altre azioni di gioco, che sono quelle che vedete in alto che adesso ne ho 250, quelle con la stellina. Ecco, quelle io vi consiglio di non spenderle all'inizio perché con quelle si possono anche fare i ball opening, si possono ingaggiare gli agenti top e usare quelli al posto dei crediti normali di gioco. Vi consiglio di resistere alla tentazione almeno finché non comprate un allenatore perché, vi faccio vedere, per ingaggiare gli allenatori, per quelli top, per quelli più forti, all'inizio avrete soltanto la possibilità di pagarli con le monete MyClub, non ci sarà la possibilità inizialmente di pagarli con i GP. Quindi io vi consiglio di mettere da parte una buona somma di monete MyClub, 6-700 fate voi, in modo da prendere, ma anche meno, vedete, ad esempio c'è l'EV che si prende con 520 adesso, però in modo da prendere un allenatore top pagandolo appunto con le monete MyClub e vi ritrovate subito l'allenatore col modulo giusto e con abilità gestionali, vedete, altissime, c'è l'EV che ad esempio ha 620, insomma adattabilità 94, sono tutte caratteristiche che poi torneranno molto utili. Quindi resistete alla tentazione di ingaggiare agenti pagando con le monete MyClub e pensate prima a prendere l'allenatore. Poi una volta preso l'allenatore, o anche due allenatori, dopo, allora sì, dopo quelle che vi restano usatele pure per ingaggiare i giocatori. Poi ovviamente abbiamo visto nell'ultimo video, se ve lo siete persi magari andate un attimino a recuperarlo, lo trovate tanto sul canale di Spazio Games, abbiamo visto l'allenamento, come funziona l'allenamento, quindi non sto qui a ripetere come funziona, ma ovviamente curate anche l'allenamento dei vostri giocatori. Poi altro consiglio, partecipate sempre alle competizioni MyClub quando queste sono aperte, quando è possibile, quindi quando le trovate aperte date sempre la priorità, la precedenza, alle competizioni MyClub piuttosto che alle divisioni ognuno alle coppe. E, cosa da non sottovalutare, anche le divisioni sim, le divisioni simulate, che personalmente la trovo molto noiosa come modalità, se la guardiamo, cioè se ci mettiamo lì davanti alla tv a guardare, perché in realtà di gestionare è molto poco, però è una modalità che può tornare molto utile, perché io ad esempio, vi dico come la utilizzo, quando la mattina sono qui a casa a studiare, metto la divisione sim e la partita gioca da sola. È un ottimo modo per fare crediti, per fare partite anche mentre state facendo altro, magari mentre state studiando, mentre state, che so, guardando un film, mentre state facendo qualunque altra cosa che richieda la vostra attenzione e quindi non vi permette di giocare, però potete avviare la partita in divisione sim e intanto la vostra squadra gioca per conto suo. È chiaro che è un po' più rischioso, perché non controllando la squadra c'è il rischio che perdiate qualche partita, ovviamente, però può succedere il calcio, si vince, si perde, però intanto giocate, quindi accumulate comunque crediti, fate comunque partite, la squadra comunque procredisce, ecco. Quindi utilizzate queste divisioni sim, almeno da questo punto di vista. Poi se vi diverte anche guardare semplicemente la partita, allora ben venga potete utilizzarle anche semplicemente guardando la partita. Però, ripeto, è una cosa che io trovo molto utile per quando ho da fare o quando ho da studiare, la metto lì e la squadra gioca da sola. E niente, poi l'ultimo consiglio che voglio darvi, l'ho tenuto per ultimo perché se vogliamo quello un po' più curioso, barra controverso sicuramente, mi avete chiesto in molti per quale motivo tengo così tanti GP, per quale motivo non li spendo. Il motivo c'è, il motivo c'è ed è una cosa che io personalmente vi consiglierei di fare, poi lì la scelta su come gestire il proprio budget di GP, aspetta ciascuno di voi, io ho scelto di tenerli perché, giocando lo scorso anno, per tutto l'anno a MyClub, ho imparato che spesso, spessissimo, Konami metà a disposizione agenti speciali molto di frequente, tipo una volta ogni due settimane più o meno, molto molto spesso, agenti speciali, come quello che ora vi farò vedere, che danno altissime possibilità di ingaggiare un top player. Quindi il mio consiglio qual è? Non spregate i vostri GP ingaggiando gli agenti normali, gli agenti top, perché, ora vi faccio vedere, un qualsiasi agente top ha come percentuale di top player 15,7%, cioè un pallone nero vi esce il 15,7% delle volte, che è veramente, veramente poco. Quindi è chiaro che finché non vi fate la squadra, finché non vi fate un 11 titolare, l'unico modo che avete per farlo è questo, quindi ok, all'inizio sì, sicuramente ingaggiare gli agenti top. Ma una volta che avete fatto l'11 titolare, o comunque vi siete fatti un pochino all'ossatura, mantenete i GP, manteneteli, non spendeteli sempre, perché poi spesso, come capita in questo caso mentre sto registrando, vengono messi a disposizione gli agenti speciali, e quindi a quel punto lì, quando ci sono gli agenti speciali disponibili, è lì che dovete sperperare come se non ci fossero domani i vostri GP. Perché guardate qua, ci sono quelli del Road to UEFA Euro 2016, che hanno la percentuale doppia, addirittura 30% di trovare un pallone nero. E poi in più c'è questo qui, che è quello limitato, mi pare che si possa fare una volta soltanto. Oh, forse questo l'hanno proprio regalato, non sto vedendo adesso per la prima volta. No, 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 questo va acquistato, è acquistabile, però si può acquistare, vedete, una volta sola. Però mi dà il 100% di pallone nero, anzi adesso ce l'andiamo anche a aprire in diretta, così facciamo un buon opening così. E quindi il mio consiglio è quello di tenere i GP una volta fatta la squadra, per poterli poi sperperare, usare, quando Konami mette a disposizione queste offerte limitate, questi agenti limitati, che chiaramente sono limitati nel tempo o nella possibilità di acquisto, come in questo caso, perché posso acquistarne uno solo, altrimenti ne avrei acquistati nove. Intanto vediamo chi ho trovato. È un portiere, è un portiere ed è, ed è Mignolè. Sì, oddio, considerando che era un pallone nero, un 80% di evaluazione generale è un pochino basso, mi è andata versino male. Però, vabbè, comunque intanto ho preso un portiere, ce l'avevo già, tra l'altro un buon portiere, ma vabbè, poi ci penserò. Comunque questo è il mio consiglio, quello di tenere i GP anche qui, di resistere alla tentazione di ingaggiare agenti, aspettando queste offerte, queste occasioni, insomma, in cui vengono messe a disposizione agenti speciali che hanno percentuali di palloni neri molto 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 più alte. Con questo ho concluso, appunto, questo video sui consigli generali, insomma, qualche dritta che secondo me può essere utile per affrontare al meglio l'avventura su MyClub. Io vi ringrazio. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, insomma. Se volete passare dal mio canale, trovate il link come sempre qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo prossimamente con altri video e streaming su PES 2016. Un saluto da Xander, ciao!